Benvenuti nel futuro, Apple Vision Pro Salve, ve lo dico subito, no, questo non è il nuovo Apple Vision Pro perché non è ancora uscito È un semplicissimo modello stampato in 3D, molto ben riuscito devo dirvi Ma quando sono stato in California per la sua presentazione, subito prima di tornare ho avuto modo di usarlo per circa 30 minuti Ho fatto una piccola demo, quindi oggi facciamo un po' di chiarezza su questo Vision Pro Cos'è? A cosa serve? Perché è rivoluzionario? Ma soprattutto parliamo di realtà mista, realtà virtuale, realtà aumentata, che dir si voglia E cerchiamo di capire se questa roba qua sarà veramente il futuro Ora, la nostra storia inizia negli anni 60 Quando tale Morton Helig, regista, crea il sensorama, questo primo esempio di realtà virtuale Questo scatolotto dove ti mettevi dentro e aveva lo scopo di simulare tutti i sensi C'era uno schermo 3D, vibrazioni, addirittura pare che simulasse gli odori Con l'idea appunto di replicare tutti i possibili sensi Avanti veloci fino agli anni 90, nasce per la prima volta il termine realtà aumentata Che viene introdotto da Tom Caudel, ingegnere di Boeing, quelli degli aerei Proprio per migliorare il lavoro degli operai, creando dei modelli 3D dei cablaggi Con l'obiettivo di rendere più facile il lavoro degli assemblatori Realtà aumentata proprio perché si parte dalla realtà e attraverso interfacce di vario tipo Che siano schermi, siano modelli, siano occhiali con proiezioni o chissà che altro Si aumenta quella che è la realtà E fin qui tutto chiaro Passiamo al 1993 Boom dei videogiochi, ci sono Siga e Nintendo E viene presentato il Siga VR Trent'anni fa queste erano le immagini della presentazione Cioè follia Ecco peccato che poi si siano dimenticati e non l'abbiano mai realmente messo in produzione Forse perché era tipo irrealizzabile per l'epoca Nel 1995 Nintendo ci riprova con il Virtual Boy Che è un po' strano Perché invece che indossarlo lo tieni su un cavalletto e ti metti sopra C'erano delle cose tipo Mario Tennis Fighissimo Però insomma costi di produzione, cose, non ha successo e finisce malissimo Ma la situazione cambia completamente quando viene presentato Oculus Rift Ci vogliono anni per svilupparlo Il Kickstarter viene lanciato nel 2012 Raccoglie 2 milioni di euro Dollari, vabbè Nel 2014 Facebook compra Oculus per 2 miliardi di dollari E nel 2016 esce finalmente il primo visore diciamo per tutti L'Oculus Rift Io mi ricordo lo provai e rimasi impressionato ai tempi Parallelamente esce anche quello di HTC In tutto ciò parallelamente nel 2013 Google presenta i Google Glass Questi occhiali con un piccolo prisma che faceva delle proiezioni Qua parliamo di realtà aumentata Quindi vedi il mondo normalmente attraverso gli occhiali trasparenti Ma nello schermino hai più informazioni Tanti problemi sia lato hardware sia lato privacy Perché avevano le telecamere Sì e no e poi forse diciamo che falliscono miseramente anche quelli 2016 PlayStation VR 2019 Oculus Quest Il primo che non ha bisogno di essere collegato a un computer Fighissimo 2020 entra in gioco Apple anche se indirettamente Perché mette prima sull'iPad Pro e poi sull'iPhone Pro il LiDAR Questo sensore a raggi luminosi per scansionare l'ambiente circostante Primo passo di Apple in questo mondo di realtà aumentata Pensate a quanti studi di architettura attraverso l'iPad magari fanno le proiezioni delle stanze 2021 Quest 2 2022 Facebook cambia nome in meta Dicendo proprio che vogliono puntare al metaverso al mondo virtuale e tutto quanto E lanciano il Meta Quest Pro che ho provato c'è il video E nel giugno del 2023 viene presentato lui Questo per dire che Apple come al solito non arriva a caso in un mondo E che loro in primis proprio attraverso il LiDAR e gli strumenti che già ci sono Hanno fatto un sacco di cose Ecco prima di parlare di tutti i possibili utilizzi futuri e del senso Riassunto di questo Vision Pro Un visore esattamente come gli altri di Meta Due schermi uno per occhio E la prima cosa molto particolare che qua ovviamente è verniciato Ma anziché esserci semplicemente un vetro o una plastica In questo Vision Pro c'è un vero e proprio schermo qua davanti Che crea un effetto di trasparenza andando a far vedere gli occhi della persona che lo sta indossando Come se fosse trasparente ma in realtà è attraverso uno schermo Ha un sacco di cose che vedono quello che gli sta attorno Pensate che ci sono 12 telecamere, 6 microfoni e altri 5 sensori vari E al suo interno ha due chip L'M2 e l'R1 L'M2 è lo stesso dei MacBook per intenderci L'R1 invece è un chip specifico del visore Che processa le immagini in 12 millisecondi Quindi 8 volte più veloce del battito di palpebre Quindi a Cupertino è una zona proprio adibita a queste prime dimostrazioni dei visori Per circa una mezz'oretta ci ho smanettato su E queste erano le mie prime impressioni Impressioni a caldo veramente assurdo Il modo in cui ti interfacci, il modo con cui con gli occhi comandi Usi gli occhi come mouse e poi con le gesture clicchi Come se fosse naturalissimo Wow, 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 wow Purtroppo non ho potuto riprendere nulla Ma sostanzialmente posso dirvi che di fatto ho visto attraverso i miei occhi Quello che penso sia il migliore visore a livello di hardware A livello di schermi Che con i loro 23 milioni di pixel risultano veramente incredibili A livello proprio di prodotto fisico È veramente un gran bell'oggetto Ma non sono queste le cose che mi hanno colpito Non è questo secondo me il vero valore aggiunto E per raccontarvelo cerco di descrivervi quella che è proprio stata la mia esperienza Primissima cosa, con un iPhone Scansione della faccia Esattamente come quella che sto facendo adesso del Face ID Seconda cosa, sempre con un iPhone Esattamente come con l'AirPods Pro Scansione della testa e delle orecchie Oh che bello orecchio Capite che ancora prima di indossarlo entra già in gioco l'ecosistema Apple Con un iPhone ti scansione il volto in modo da poter usare gli strap della grandezza giusta per te E in modo anche da personalizzare le varie altre cose Audio spaziale, cose varie Però in un paio di minuti ero pronto Io fortunatamente non ho più gli occhiali In caso si possono montare le lenti personalizzate fatte da Zeiss E questo cambia tutto perché quando avevo gli occhiali era veramente un delirio usare i visori Certo ci sono altre soluzioni simili tipo questi sono gli occhiali di DJI per i droni E girando la rotellina tu puoi un po' regolare le diottrie Però ovviamente oltre ai miopi ci sono anche un sacco di altre varie deformazioni degli occhi Quindi super interessante questa cosa Fatto sta che entro in questa stanza dove indosso per la prima volta il visore Che in questo momento si sta autodistruggendo Attaccato con lo scotch va bene Letteralmente con lo scotch Che poi per farvi capire il visore è solamente di queste dimensioni Questa è la scala giusta Cioè è poco più grande di un iPhone 14 Pro Max È follia questa cosa qua Io oltre a questo che è quello che si è visto in tutte le presentazioni Avevo anche un laccio che andava sopra insomma Avendo un grosso cervello evidentemente serviva La batteria non l'abbiamo detto ma è esterna collegata con un cavo Lo indosso e quello che vedi è il mondo che ti circonda attraverso le telecamere del visore Cosa che fa anche il Quest Pro Solo che qua vedi una roba quasi in bianco e nero tutta sgranata Qua invece vedi veramente quello che hai attorno in maniera super nitida Certo vedi che stai vedendo attraverso un video Ma ero in grado di vedere tutto quanto esattamente come se non li indossassi Appare la classica scritta è lo in 3D però E cosa fighissima gli occhi si regolano in automatico Di solito sei tu a mano che devi spostarti le lenti Qua no si fa in automatico Praticamente ti chiede di guardare dei pallini E inizia a studiarti il tracking degli occhi Finito il setup Qua sopra c'è una digital crown Simile a quella di Apple Watch o dell'AirPods Max per intenderci E che è un po' il nostro tasto principale Oltre all'altro tasto che c'è qua Schiacciandola appaiono le applicazioni In questa maniera che ricorda un po' la Playstation Vita Non so se ve la ricordate E qui inizia quella che non scherzo è per quanto mi riguarda una magia Perché non ci sono controller Usi gli occhi come se fossero un mouse Dove guardi selezioni E la cosa folle è che ti abitui in tipo 20 secondi a questa cosa Poi diventa super naturale E le mani diventano i tasti Un tap per cliccare Poi c'è il doppio tap Il pinch per trascinare cose Lo zoom con due mani La rotazione sempre con due mani Io ho aperto varie applicazioni Ed ero lì a spostarle nella stanza Come se fossi nella scena di Minority Report Dove c'è Tom Cruise che sposta di qua di là di su e giù Ma sullo schermo ecco Io le spostavo nella tridimensionalità della stanza Follia Ecco non è che questa sia una roba nuova Perché anche i visori meta si possono usare senza controller Il punto è che devi fare proprio delle gestualità abbastanza palesi Invece il Vision Pro avendo le telecamere anche sotto A un certo punto io mi sono ritrovato svaccato sul divano E non è che ero lì a fare cose super mega vistose E ero lì a fare pap 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 Con gli occhi guardavo in giro E muovevo le cose Facevo quello che volevo Con una naturalezza incredibile Come in un film di fantascienza proprio Considerate che nella comunicazione Apple non l'ha mai definito un visore di realtà virtuale Ma l'ha definito proprio un computer spaziale Proprio perché nello spazio Vedendo comunque il mondo circostante Indossi quello che tutti gli effetti è un computer Quindi ho visto in prima persona le cose che hanno fatto vedere di fatto nella presentazione Dalle foto spaziali Queste foto tridimensionali Che sono veramente come se fossero dei ricordi realistici Dove ci puoi girare intorno E guardare con la prospettiva E con la tridimensionalità Foto e video che tra l'altro si possono scattare proprio col visore Gli ambienti perché volendo Ruotando la corona digitale Ti puoi immergere in un mondo totalmente virtuale Dove quello che hai attorno sparisce E sei magari in mezzo alla natura Su questo tra l'altro proprio Steve Jobs aveva detto una cosa In una conferenza tipo un sacco di tempo fa Che le cuffiette sono proprio uno strumento per isolarsi dal mondo esterno Ecco che la digital crown diventa proprio un modo per regolare Quanto ci si vuole isolare dal mondo Che è un concetto molto interessante Ho poi fatto una demo di mindfulness circondato a 360 da questo ambiente Con i petali, la musica zen E non mi sono per niente rilassato perché l'ho super agitato dall'avere indosso questo Poi ho visto una serie di video a 180 Immersivi quindi con una specie di tridimensionalità Da paesaggi oceani Ce n'era uno con un rinoceronte che sembrava proprio davanti a me E una piccola demo di Alicia Keys che cantava Sentendo anche l'audio provenire dai vari strumenti Perché qua abbiamo due capsule audio E con l'audio spaziale in base a dove ti giri Senti da dove arriva l'audio Si sente bene sicuramente non come l'AirPods Pro Ma eventualmente essendo tutto Apple Uno si mette l'AirPods Pro e usa comunque il visore Collegato in automatico alle cuffie Poi ho visto un pezzettino di avatar in 3D In questa modalità teatro Dove tutto nero Hai lo schermone davanti a te come se fosse uno schermo gigante E posso dirvi che rispetto a vedere un film in 3D Con gli occhialini scomodi e brutti Cambia tutto Poi ho visto sta roba con un dinosauro che appariva Ci girava intorno Che sembrava veramente nella stanza Perché vedevi lo schermo ma poi il dinosauro che camminava Una farfalla che si appoggia proprio sul dito Sicuramente anche tutte queste demo sono state proprio create Per generare l'effetto wow Ai media, ai giornalisti, ai youtubers E chi poi ne sta parlando come me E io ho aspettato così tanto per fare questo video Proprio perché volevo farlo a mente fredda Ma vi posso garantire Che mi sembrava veramente di essere dentro Jurassic Park Sempre sull'intrattenimento Apple ha proprio lanciato una partnership con Disney Quindi ne vedremo delle belle Ma la cosa che forse mi ha colpito più di tutte È stata la chiamata FaceTime Che ho fatto con un'altra persona di Apple Che non so dove fosse lì in giro E che funziona in una maniera un po' strana Perché tu hai il visore E lui grazie a una scansione che fa degli occhi e del tuo volto Fa vedere i tuoi occhi in tempo reale Dove stai guardando e le tue espressioni E il resto del volto lo ricostruisce In questo avatar virtuale molto realistico Si vede che è un avatar ma sembra quasi una persona vera E questa cosa è stata tanto inquietante Oltretutto sfruttando l'audio spaziale Nel momento in cui io mi mettevo a spostare la chiamata in giro per la stanza Sentivo la persona più lontana, più vicina, da destra, da sinistra Come se stessi avendo una conversazione con una persona normale Tra l'altro stesso principio per il quale poi fuori si vedono gli occhi di chi lo sta utilizzando Cosa che però non ho avuto modo di vedere Quindi non so che effetto faccia Bene, quando potremo provare questa roba qua? Non ne ho idea In Italia, in America uscirà in teoria a inizio 2024 Al prezzo di 3500 dollari Che sono tantissimi Si chiama Apple Vision Pro Quindi come al solito Apple parte da un prodotto al top di quello che possono fare Che senso ha tutto ciò? Sicuramente tutti gli usi professionali Come già avviene con gli altri visori Dall'architettura all'ingegneria Pensate che anche gli astronauti sulla stazione spaziale internazionale Usano dei visori per vedere attraverso le cose Oppure il casco degli Eurofighter È un esempio incredibile di realtà aumentata Perché ti permette di vedere attraverso l'aereo Vedere un sacco di cose Ovviamente parliamo di tecnologie militari super mega tecnologiche Però a noi persone normali serviranno nel futuro Per fare tutto quello che facciamo secondo me Quindi è più stupido tenersi addosso un visore per delle ore O passare delle ore seduti su una scrivania davanti a un computer È più stupido guardarsi un film su un visore Vedendolo in maniera incredibile Qua è più stupido stare due ore su un divano A vedere uno schermo che per quanto possa essere grande È comunque uno schermo 2D attaccato a un muro Ecco che qua la situazione cambia perché tu con un dispositivo hai un computer Una postazione Una postazione cinema E veramente possibilità infinite È proprio un concetto diverso di vedere il mondo Se un domani ci saranno visori sempre più piccoli Sempre più comodi Con i quali si potrà andare per strada A quel punto non serve neanche più il telefono Perché hai già il visore Ed è qui che Apple ha il vero valore aggiunto Inteso come ecosistema Che non vuol dire solo dispositivi Cioè è fighissimo che puoi usare le Airpods Fighissimo che puoi usare il MacBook Sfruttando la potenza del MacBook Ma sempre attraverso il visore Vedere infiniti schermi E fare tutto quello che vuoi Ma con ecosistema parliamo soprattutto di software Di interfaccia Di modo in cui ti relazioni con la macchina E da una parte hai già tutte le applicazioni che hai Sul tuo iPhone e sul tuo MacBook e sul tuo iPad Dall'altra sappiamo benissimo che la cura di Apple Nell'esperienza utente è veramente maniacale Se volete nerdare andate a vedervi tutte le linee guida di sviluppo Che hanno fatto per le applicazioni in ambienti virtuali Ogni singola cosa è curata Dicono addirittura dove gli sviluppatori non devono mettere i pulsanti Per non dar fastidio agli occhi delle persone Che non guarderebbero mai lì Perché sì i visori già ci sono Già sono super utilizzabili Ma poi non ci sono le applicazioni Non ci sono gli utilizzi Non c'è modo di comunicare con gli altri E quindi finisci per non usarli Ecco secondo me questa cosa con il Vision Pro Cambierà e andremo sempre di più verso un mondo virtuale Il contatto col mondo esterno mi sa che l'abbiamo già perso Io sono grandissimo fan della natura di tutte le attività all'aperto Però se devo usare un dispositivo che ha uno schermo Questa roba qua è limitatissima Il computer è limitatissimo Mentre con un visore le potenzialità sono pressoché infinite Fatemi veramente sapere cosa avete in mente Non lo so dove andremo a finire Se in un mondo distopico tipo Ready Player One Tra l'altro fun fact La scenetta iniziale Nonché la scenetta che ha messo anche Apple nella presentazione Della telecamera che si avvicina all'occhio per entrare nel visore È una citazione proprio a Ready Player One È al genio di Spielberg E quella scena è stata super mega complicata Perché mille telecamere da vicino Non entriamo nel tecnico Questo per Spielberg Noi l'abbiamo fatta con un iPhone Adesso parliamo di visori Domani magari parleremo di lenti a contatto O di proiezioni direttamente sulla retina O di chip nel cervello Chissà dove andremo a finire Ma sarà molto divertente E spero che sarò qua per raccontarvelo Ci vediamo alla prossima Ciao